Musica Al via i lavori al Codma di Rosciano Afano per la riqualificazione della palazzina d'ingresso alla struttura. Questa mattina la visita dell'assessore regionale Baldelli, costo dell'intervento 500.000 euro. A Luvione la regione stanzia 2 milioni e mezzo per auto e furgoni andati distrutti, parte la ricognizione dei danni. Pesaro 2024 si è presentata ai 50 sindaci della provincia. A fine mese arriva il ministro Sangiuliano, a luglio si presenta il programma e a gennaio si parte con la cerimonia ufficiale. Nuova pista ciclabile, rimozione dei rifiuti e altri interventi. Proseguono i lavori al Parco Urbano di Fano. Tre le aree interessate per un importo di 600.000 euro. Sabato 11 febbraio si celebra la giornata mondiale delle radio. A Fano verranno pregnati i personaggi della radiofonia locale e i radio amatori. Mercoledì 8 febbraio, un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV a occhio alla notizia, il telegiornale di Fano TV. Sono partiti quest'oggi i lavori di riqualificazione della palazzina al Codma di Rosciano a Fano per un costo totale di 500.000 euro. Gli interventi riguarderanno il rifacimento degli intonaci esterni, del lastricato e la messa in sicurezza del tetto. Sentiamo. Sopraluogo questa mattina dell'assessore regionale all'infrastrutture Francesco Baldelli per l'avvio dell'ultimo step di lavori di riqualificazione del Codma di Rosciano a Fano. L'intera area ha visto da parte della Regione Marche un finanziamento di 1.350.000 euro. Per l'area esterna, di 18.000 m2, sono stati impiegati 850.000 euro per la realizzazione di nuovi asfalti e cordoli già conclusi alcuni mesi fa. Mentre a partire da oggi la riqualificazione è messa in sicurezza della palazzina d'ingresso con il rifacimento di intonaci esterni, del lastricato e la messa in sicurezza del tetto, oltre ad una nuova ritinteggiatura. Mezzo milione di euro di lavori per il ripristino della palazzina funzionale del Codma. Il centro trofrutticolo è ormai diventato un centro servizi importante non solo per Fano, per la Valle del Metauro, ma per tutta la nostra provincia. Ha dimostrazione la facile accessibilità di questo luogo di proprietà regionale, sul quale investiamo per ripristinare non solo gli intonaci esterni della palazzina, ma per mettere in sicurezza il lastricato della stessa e il rifacimento del tetto. Così il comune di Fano e tutta la comunità provinciale potrà avere a disposizione un centro strategico non solo per le associazioni di volontariato e per il mercato ortofrutticolo, ma un centro strategico anche per l'emergenza così come è stato dimostrato durante l'emergenza pandemica in cui il Codma è diventato un centro di erogazioni e servizi importantissimo per la sanità marchigiana. Presenti durante il sopralluogo i tecnici e la ditta incaricata insieme al presidente del CB Club Mattei, Saverio Olivi. Anni fa il comune ha scelto di darci la sede al Codma, quando siamo arrivati era abbastanza in degrado e da lì sono partiti piccoli lavori esterni per quanto riguardava il manto, le siepi, poi abbiamo iniziato a fare delle richieste alla regione Marche del tipo l'asfaltatura o altri piccoli lavori, oggi ci ritroviamo che nei tre interventi una prima parte dell'asfalto, la seconda parte dell'asfalto terminata qualche giorno fa, oggi da un inizio alla ristrutturazione della palazzina non ci fa altro che piacere perché da qualche anno ormai sia per la vaccinazione sia per i tamponi sia per le attività, anche in questo momento oggi c'è un'attività che arriva dalla Francia per fare promozione ai propri trattori diventa un punto importante per la città e a noi può solo fare che piacere. E la regione Marche ha stanziato 2,5 milioni per chi ha perso l'automobile o il furgone a causa dell'alluvione del 15 settembre scorso, parte dunque la ricognizione preliminare dei danni è una misura, ha spiegato il governatore, che viene attuata per la prima volta a seguito di una calamità con risorse regionali poiché le procedure della protezione civile nazionale non prevedono contributi per gli autoveicoli andati distrutti. Questa mattina il vice commissario Stefano Babini ha trasmesso ai sindaci dei comuni più colpiti la richiesta di fornire le prime indicazioni sui mezzi andati persi. Sono in fase di accreditamento invece i primi fondi stanziati dal governo per avviare le procedure di ristoro dei danni ai privati e alle imprese e per le somme urgenze degli enti locali. E questa mattina il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti e il capogruppo di Fermo Renzo Interlenghi hanno depositato negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo un esposto relativo al tragico incidente stradale verificato il 4 febbraio scorso nel tratto autostradale della A14 all'interno della Galleria Castello nel comune di Grotta Mare costato la vita ad Andrea Silvestrone e ai suoi due figli. L'esposto è rivolto nei confronti di tutti coloro che saranno ritenuti responsabili e per tutti i reati che saranno ravvisati. Nell'attesa che la magistratura svolga il suo compito, hanno spiegato Cesetti e Interlenghi, chiediamo l'immediata adozione di provvedimenti volti a garantire la massima sicurezza della percorrenza di questo tratto autostradale e che si passi dalle parole ai fatti per il completamento della terza corsia dell'A14 a sud di Porto Sant'Elpiglio. E torniamo a Fano perché proseguono i lavori al Parco Urbano Luciano Polverari. Siamo nella zona dell'ex aeroporto. Allora sentiamo dall'assessore Barbara Brunori quali sono gli interventi in atto e quelli che verranno realizzati nei prossimi mesi. I lavori per quanto riguarda il Parco Urbano, come abbiamo annunciato le scorse settimane, sono ripresi, sono ripresi a pieno ritmo. Parliamo di un contesto di lavoro che comunque si aggira intorno ai 600 mila euro, 600 mila euro che sono stati stanziati in copartecipazione con il Comune di Fano e delle risorse ministeriali alle quali abbiamo attinto. È un lavoro che è previsto su tre aree. La prima area è quella proprio di continuità a quello che è l'area dei giochi precedentemente installata e lì stiamo realizzando una pista ciclabile, già è stata predisposta all'illuminazione, tutti i sottoservizi che poi dovranno andare a finire nell'area Anger, quindi che sarà in un secondo tempo lavorata, passano già sotto la pista ciclabile e quindi abbiamo anche quella funzionalità lì. La seconda area invece è quella più avanti, diciamo continuativa, la pista ciclabile verso via Papiria e in quest'area invece qui stiamo predisponendo la rimozione di rifiuti perché nel momento in cui siamo andati a scavare sotto purtroppo sono state ritrovate diverse macerie che oggi dobbiamo in qualche modo smaltire, quindi quello momentaneamente sospeso in attesa della rimozione e lì invece sarà predisposta un'area di ristoro con degli arredi, con dell'illuminazione, proprio un'area dove le persone si potranno incontrare, potranno socializzare. Diciamo che adiacente a quella nell'area di fianco a quello che è il Bosco della Memoria, quindi del Gattile, lì invece proprio questi giorni stanno lavorando per fare il secondo tratto di pista ciclabile, quello che si riversa su, che va a finire su via Confalonieri e anche questo è un tratto illuminato e ci sono delle sedute, delle panchine per soffermarsi, diciamo, durante il percorso. Oltre questo ci saranno degli attraversamenti pedonali illuminati che verranno messi a disposizione nel congiungimento e per preservare la sicurezza delle persone che lo attraversano e ricordiamo che abbiamo proprio in questi giorni terminato la gara della Casa del Parco e che è stata fatta una pre-aggiudicazione, nel senso una giudicazione temporanea in attesa della firma e della sottoscrizione del contratto, per cui i lavori dovrebbero partire i primi di maggio. Naturalmente la cartolina e il biglietto da visita di questo bellissimo spazio verde, polmone che va assolutamente valorizzato dalla città, è una casa che ha una dimensione importante di 190 metri quadri, di cui 170 sono calpestabili e invece i 20 sono proprio sul suo palco, perché ricordiamo che all'interno è suddivisa in tre spazi importanti, tutti naturalmente accessibili proprio perché una delle caratteristiche per cui l'abbiamo migliorata, mantenendo quello che invece è la muratura esterna, perché da alcune analisi è risultata essere consistente e durevole. L'abbiamo modificata nell'accessibilità con una rampa esterna, l'abbiamo modificata nella sismicità, perché naturalmente abbiamo fatto degli interventi con delle pannellature in acciaio all'interno per renderla più stabile. Abbiamo smantellato, smantelleremo nel progetto, da progetto quello che è il tetto, facendo un tetto invece con del listellare, quindi di legno, con tutto un rivestimento di pannelli fotovoltaici, proprio perché tutta la struttura dovrà abbattere tutti quelli che sono i costi del calore, quindi dell'energia che sono all'interno dello stabile. Questa struttura è sicuramente strategica anche proprio per la socialità di quel quartiere, perché ricordiamo che da tanto tempo che ci viene richiesta, è bene mettere a disposizione della comunità uno spazio che venga vissuto al meglio nella lettura, nell'incontro tra persone, in quello che potrebbe essere un'area di ristoro, quindi ci sono tante prospettive per quella casa, per riempirla al meglio e restituirla alla città. A seguito della riforma sanitaria, da lunedì 13 febbraio tutti i dati identificativi dei cittadini della Regione Marche, oggi associati all'Asur, dovranno essere associati alle nuove aziende sanitarie territoriali in base al comune di residenza, così anche i medici di medicina generale e i pediatri saranno associati alle nuove AST, che saranno configurate con i nuovi codici presso il CUP. A causa di queste operazioni il CUP non sarà attivo per le prenotazioni telefoniche. In questo intervallo le operazioni di aggiornamento potrebbero influire sulla funzionalità del servizio di prenotazione e pagamento che vengono effettuati online o le prenotazioni effettuate in farmacia nel pomeriggio di sabato. Pesaro 2024 si è presentata ai 50 sindaci della provincia. Durante l'incontro il vice sindaco Daniele Vimini ha annunciato l'arrivo del ministro San Giuliano il prossimo 25 febbraio per inaugurare il restyling del centro arti visive Pescheria. Dopo l'evento del 24 gennaio destinato ai portatori di interesse, ieri il Salone Metaorense del Palazzo Ducale ha accolto, secondo evento ufficiale del percorso di avvicinamento a Pesaro, capitale italiana della cultura 2024. Al momento istituzionale hanno partecipato 50 sindaci della provincia, ma anche le autorità, le associazioni di categoria e i rappresentanti di università e accademie. Per l'occasione il vice sindaco Daniele Vimini ha annunciato che il ministro della cultura Gennaro San Giuliano il prossimo 24 febbraio arriverà in città per inaugurare il nuovo assetto della Pescheria, uno dei luoghi simbolo di Pesaro 2024. Dobbiamo sentirci tutti coinvolti come se questo anno fosse già iniziato, perché infatti è già iniziato e soprattutto sentirci responsabilizzati e fare in modo che sia una sfida che possa poi durare in termini di risultati, di benefici per il nostro territorio per gli anni a venire. Pensiamo ad accendere quello che vogliamo essere un fuoco olimpico, c'è qualcosa destinato a durare, destinato ad ardere e destinato a raccontare la provincia di Pesaro Urbino con tutte le sue potenzialità, più ancora di quanto fino ad ora non sia conosciuta anche per i propri meriti, grazie alla straordinaria opportunità che era presentata dalla capitale italiana della cultura 2024. L'incontro si è svolto alla presenza del prefetto Emanuela Saveria Greco, che ha aperto il pomeriggio con un invito a lavorare insieme in una strategia condivisa. Tutti i comuni, ha detto, hanno la possibilità di mettersi in mostra e di far emergere le peculiarità e le eccellenze di ogni singolo territorio. Noi come prefettura ci sentiamo chiamati in gioco, per cui ci stiamo rifacendo il look insieme all'Agenzia del Demanio, che ringrazio. Abbiamo fatto dei sopralluoghi nei giorni scorsi, in modo da rendere questo palazzo ancora più bello di quello che è, di portarlo al suo valore e alla sua bellezza rinascimentale, di tal che possa essere goduto da tutti. Il 2023, come spiegato da Straccini, direttore generale di Pesaro 2024, sarà un anno intenso di confronti e lavoro duro per dare forma a un dossier molto articolato che ha come punto di forza il coinvolgimento di tutta la provincia e la coprogettazione dei contenuti. Per ora giunto, attendiamo le indicazioni di un referente per ciascun comune, con il quale iniziare a lavorare sui temi. Le tappe fondamentali sono a luglio la presentazione del programma, entro dicembre la conferenza stampa nazionale e a gennaio 2024 la cerimonia inaugurale. Ogni comune una settimana diventerà capitale italiano della cultura. Le direttive su cui stiamo lavorando sono quelle che più già ci fanno conoscere anche al di fuori del territorio provinciale e regionale, che sono sicuramente il teatro, l'associazionismo, l'enogastronomia, le nostre sagre, i nostri borghi. Quindi stiamo lavorando un po' su queste direttrici e presto penso che avremo anche qualcosa su cui lavorare di veramente molto concreto. Presenti tra gli altri anche i sindaci di Monbaroccio e Mondolfo. Siamo orgogliosi di fare rete, di fare squadra nei prossimi mesi assieme al comune di Pesaro per promuovere al meglio il nostro territorio, la nostra provincia ma anche la nostra regione. Qualche peculiarità da promuovere di Mondolfo e Marotta cosa si potrebbe dire? Sicuramente la terra delle due vacanze in una, quindi il borgo, Mondolfo e la bandiera blu, la località turistica Marotta con il suo lungomare, la sua ciclovia adriatica. Devo ringraziare il comune di Pesaro, l'assessorato della cultura per l'ottimo lavoro svolto e anche il ministero per aver premiato questa corralità di progetti. Monbaroccio è pronta, Monbaroccio ad Adare, Palazzo del Monte, il Beato Sante, tutti i musei civici della civiltà contadina, tutta l'arte che abbiamo da mettere a disposizione in un magnifico borgo medievale e rinascimentale. E il servizio era di Simona Zonghetti. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Sabato 11 febbraio si celebra la giornata mondiale del radio. Allora sentiamo nel prossimo servizio curato da Massimo Foghetti le iniziative previste a Fano dove verranno anche premiati i personaggi della radiofonia locale e i radioamatori. Sabato prossimo anche Fano celebra la dodicesima edizione della giornata mondiale del radio con un convegno dedicato al rapporto tra radio e pace che si terrà alle ore 17 nella sala riunioni della ditta Nucco Promo sul lungomare di Sassonia. Un tema che vede protagonisti la diocesi con la presenza del vicario Marco Presciutti e il direttore dell'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali Enrica Papetti la quale fungerà da conduttrice. Interverranno poi i rappresentanti dell'Associazione Italiana Radio Amatori, sezione di Fano, presieduta da Marco Storaci e il DJ Luca Valentini, uno dei pionieri delle radio libere. L'iniziativa, che gode del patrocinio della Confcommercio, è stata presentata nella sede dell'ufficio turismo portando la ribalta, come ha evidenziato il segretario dell'Ari Walter Baldassaretti, che funge da portavoce dell'Associazione, il ruolo che ancora oggi, nonostante lo sviluppo tecnico raggiunto dalle comunicazioni, occupano i radioamatori. I radioamatori collegano tutto il mondo, noi abbiamo la nostra stazione radio a casa e anche in sezione dove colleghiamo in vari modi, dall'alfabeto Morse all'afonia, tutti gli altri radioamatori che si trovano o nelle vicinanze o nelle altre dimensioni vicine o anche molto lontane. Quindi è una passione che ha poi degli effetti importanti dal punto di vista sociale. Sì, perché noi abbiamo la possibilità, oltre di contattare, e anche di ricevere delle cartoline QSL di conferma del collegamento avvenuto e anche perché pubblicizziamo la nostra zona, la nostra città. Abbiamo dei siti dove il nostro corrispondente viene a visionare il nostro nominativo internazionale in un sito web che si chiama qrz.com, ognuno di noi ha il suo nominativo internazionale e il corrispondente con il nominativo entra dentro e vede sia la stazione radio, sia la nostra zona, quello che noi pubblicizziamo di Perfano e poi in caso di calamità naturali noi siamo precettati dalla prefettura per intervenire con le nostre radio in caso di bisogno. E come si svolge la giornata di sabato? La giornata di sabato è una giornata dedicata prima di tutto alla premiazione dei nostri cari radioamatori che non ci sono più, che ci hanno lasciato, specialmente il K6 BRJ, Fabio Ferrucci che è stato anche uno dei fondatori delle radio libere e poi presentiamo, c'è chi presenta, l'utilità delle radio libere locali. A rievocare i temi eroici delle radio libere locali sarà Luca Valentini. Insieme ad alcuni amici rievochiamo i tempi eroici, hai detto bene il termine più adatto, perché sono stati veramente dei tempi eroici. Quella volta la radio, la trasmissione radiofonica era monopolizzata dal nazionale, quindi c'era solo la RAI. Nel 1976 con una sentenza della Corte Costituzionale le radio sono state liberate, liberate nel senso che potevano trasmettere a livello locale anche emittenti private. A Fano, come in tutta Italia, hanno aperto le radio private, le radio libere nel 1976, Radio Fano, Radio Smeralda e poi Radio Venere. Quindi sabato avremo il piacere di ricordare dei bellissimi momenti insieme ad alcuni amici che sono i pionieri della radiofonia locale a Fano. E ora apriamo la pagina dedicata al carnevale. Nei giorni scorsi l'ente carnevalesca di Fano ha rinnovato il gemellaggio con l'associazione Argos Forze di Polizia. Al momento istituzionale c'era per noi Cristiana Guerra. Obiettivo principale guardare al sociale. Per realizzarlo un gemellaggio che si rinnova da cinque anni, che lega la città della fortuna a Roma. Protagonisti l'ente carnevalesca e l'associazione Argos Forze di Polizia Not For Profit. Domenica mattina, mentre Viale Gramsci era gremito per la prima sfilata del carnevale dei bambini, in comune, presso la sala della Concordia, si è svolta la cerimonia in cui è stato rinnovato un importante accordo tra una delegazione dell'associazione romana, l'amministrazione comunale e la presidente dell'ente carnevalesca, Maria Flora Giammarioli. Un sodelizio, un rapporto di collaborazione con gli stessi ideali di sicurezza e divertimento che unisce il carnevale fanese a quello della città romana, denominato una grassa domenica festa del carnevale delle forze di polizia. Rinnovato stamattina un importante gemellaggio tra la carnevalesca e Argos, di che cosa si tratta? Beh, premesso che le amicizie sono una cosa seria, noi oggi abbiamo appunto rinnovato questo patto d'amicizia e questo gemellaggio tra Argos, forze di polizia e il carnevale di Fano e comunque con la città di Fano. Insomma, schierate tante divise, è una bella emozione, noi ci crediamo tanto alle amicizie, quindi ogni anno rinnoveremo questo con loro e anche con gli altri nostri partner e amici nel mondo. Un'amicizia che va avanti da quanti anni? Ormai sono cinque anni. Argos, forse di polizia è un'associazione di carattere internazionale, composta da appartenenti alle forze dell'ordine e anche da simpatizzanti di buona condotta. Abbiamo costituito ormai da 15 anni questa organizzazione associativa per intraprendere ormai da diversi anni il percorso delle buone azioni, ossia un gruppo di volenterosi appartenenti alle forze di polizia liberi dal servizio per fare attività dedicate al prossimo, quindi attività tutte al volontariato, attività all'aggregazione culturale, alla formazione del personale e a stimolare i cittadini ad interagire con le forze dell'ordine. Domenica 12 febbraio si svolgerà la 14esima Kermess delle forze di polizia di Argos, incentrata sui temi dell'arte e della scienza. Tra le novità di quest'anno, il gemellaggio con il Carnevale dei Bambini di Pinocchio e i Comici Camici, l'associazione che coinvolge i clown dottori allo scopo di aiutare i bambini in gravi difficoltà. Tra i partner di Argos, nel percorso delle buone azioni, la Guardia Nazionale Ambientale delle Marche, guidata dal professor Raggi, presente all'incontro in comune. Siamo qua a Fano con la massima convinzione. Noi seguiamo l'Argos da sempre praticamente e siamo stati presenti anche nelle precedenti edizioni, ma con la massima convinzione al Carnevale di Fano perché dovete sapere, e non so se lo sapete, che il Carnevale di Fano è un Carnevale ecosostenibile. Quindi è il primo atto concreto di un'amministrazione comunale, di un'associazione come l'ente della carnevalesca, che hanno inteso adottare un atteggiamento di rispetto dell'ambiente reale, mediante prodotti, l'utilizzo, la sponsorizzazione e l'adozione di prodotti compostabili. Quindi tutto quello che viene lanciato, stelle, coriandoli, eccetera, è tutto compostabile. Persino le bombolette di vernice sono vernici particolari compostabili. Al termine della conferenza, dopo la firma, è avvenuto il rituale scambio di doni e al pomeriggio la tradizionale sfilata in Viale Gramsci, assieme ai carri e alle mascherate. E vi ricordo che domenica prossima, 12 febbraio, saremo in diretta su Fano TV alle ore 21 con il programma In Viaggio con il Voulon. Insieme agli ospiti in studio, la conduttrice Maria Elena Delbianco commenterà la seconda domenica di Carnevale. È possibile interagire con la redazione ai soliti numeri di telefono. Lunedì sera, invece, torna primo cittadino, ritorna sempre nei nostri studi, il sindaco di Fano Massimo Seri. E questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo che subito dopo di noi ci sono le previsioni del tempo e a seguire riproponiamo le ricette dedicate ai dolci di Carnevale realizzate dai circoli ricreativi fanesi registrate lo scorso anno. Non mi resta che augurarvi una buona serata con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.